Pagina dedicata alla salute questa mattina presso i locali dell'Associazione Sclerosi Multipla Sacro Cuore Onlus, cerimonia di consegna di un defibrillatore portatile donato dal Kivanes in collaborazione con l'artista alcamese di Franco e la cooperativa Piccolo Teatro di Alcamo. Ci sono le interviste per voi. Ormai è diventato uno strumento obbligatorio in molte realtà. Nelle società sportive è obbligatorio per legge e sono molti i casi. Abbiamo pensato a questo defibrillatore di salvare qualche vita, fare capire davvero l'importanza di questo strumento. Ringraziare a tutti coloro che hanno permesso l'acquisto, la donazione di questo defibrillatore all'Associazione Sclerosi Multipla. Vorrei ricordare l'ultimo episodio, l'abbiamo visto in diretta per i campionati europei, un calciatore dell'Olanda che si è accasciato a terra per molto probabilmente un collasso cardiocircolatorio. Nella persona, nel calciatore di Ericsson, è bastato appunto un apparecchio, un semplice apparecchietto di questo salvavita per riportarlo appunto in vita. In effetti mancava e noi appunto metteremo questo defibrillatore nella sede dell'Associazione, che è Piazza 4 Novembre, ma non solo, visto che è un portatile, lo porteremo appunto con noi, con il pulmino, quando vengono trasportati i nostri assistiti. Quindi grazie, grazie ancora. E che speriamo che non venga mai usato. Comunque per adoperare chiaramente questo apparecchio occorre fare un corso, il corso BLSD, che noi organizzeremo. Bisogna vedere come siamo combinati con il Covid, quindi se è possibile fare il corso o meno. Ne approfitto della vostra emittente per ricordare che l'Associazione Sclerosi Mutti del Sacro Cuore di Alcamo il 16 di ottobre completerà quel percorso del concorso internazionale letterario. C'era una volta il Covid, caro amico di Scrivo, e speriamo che parliamo nel passato, c'era e che non continua a martellarci. Ne approfitto per ricambiare in piccolissima parte questo dono che ci fa il Kiwanese Club invitando tutti i soci del Kiwanese Club o chi vorrà partecipare al nostro concorso letterario e li inviteremo quando faremo il corso del BLSD. Grazie, grazie a voi, grazie alla dottoressa, grazie al Kiwanese.